Il prefetto di Macerata Flavio Ferdani, in visita a Camerino in occasione dell'inaugurazione della nuova Accademia della Musica, ha incontrato l'arcivescovo di Camerino, Monsignor Francesco Massara, il rettore di Unicam Claudio Pettinari, il sindaco Sandro Sborgia e il commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini. Durante gli incontri sono state discusse le tematiche di maggiore interesse per il territorio Camerte, tutte inevitabilmente legate alla ricostruzione post-sisma. I vari confronti avuti sono stati utili per fare il punto della situazione sugli sviluppi e sui progetti relativi alla ricostruzione della città di Camerino, che per effetto del terremoto dell'ottobre 2016 ha subito danni di proporzione ingente alla città, al patrimonio dell'Ateneo e a quello ecclesiastico.